E salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video Oggi cominceremo una nuova rubrica, la rubrica interpretazione poetica Ebbene sì, vi porto infatti questo libricino di circa 40 pagine In che senso vi porto? Non andrò ad esporvi tutto il contenuto All'interno di ancora un giorno di Anna Giulia Angelone Che tra l'altro è una poetessa ma anche un insegnante di letteratura Ha anche vinto dei concorsi per quanto riguarda la pittura Ed è un libro abbastanza antico, dire il vero Infatti vedete ancora le lire ci sono, lire 1400 L'ho acquistato dall'antica libreria, un sito online Ma al di là di ciò, che cosa andremo a fare oggi? Prenderò da questo libro alcune delle poesie che mi sono piaciute maggiormente Mi sono piaciute di più, che mi hanno particolarmente colpito E le andrò ad analizzare In che modo, vi starete chiedendo, con una parafrasi Beh, più o meno, diciamo che le parafrasi ovviamente non ci sono Cioè, vedete per esempio sono così vuote le pagine Non ci sono le parafrasi, quindi Che cosa cercherò di fare? Di andare a scovare i significati profondi Che possono aver dato origine a determinati sentimenti A determinate emozioni, stati d'animo, pensieri Del poeta o in questo caso della poetessa E quindi cercheremo proprio l'origine del significato Di ciò che vuole trasmettere il poeta o la poetessa Con i suoi versi e i suoi canti, insomma Cominciamo quindi con l'analisi Che è un'analisi non solo poetica Ma anche quasi psicologica Una ricerca delle cause Come vi ho detto prima Della prima poesia Che però non è di Anna Giulia Angelone Ma è di un certo J.R. Jimenez Spero di averlo pronunciato bene Allora procederò così Prima ve le leggo E poi dopo, pezzo per pezzo, andiamo ad analizzarle Non so come passare dalla riva dell'oggi Alla riva del domani E intanto il fiume si porta alla realtà di questa sera A mari senza speranza La verità chiara, come un cielo disteso Diversa e lontana, si spegne Allora, analizziamo Non so come passare dalla riva dell'oggi Alla riva del domani Che cosa ho capito da questi tre versi? Che c'è un'incertezza sul futuro Ma anche sulla propria identità in un certo senso Che porta con sé una svogliatezza forse Dovuta a un non intervento A un non intervenire per modificare la situazione presente Perché infatti non sa come passare dalla riva dell'oggi Alla riva del domani Tra l'altro la riva dell'oggi A me fa pensare la riva A un luogo in cui le barche sostano E la riva dell'oggi Ha forse un'accezione un po' più negativa Rispetto alla riva del domani Dal mio punto di vista ha un significato più positivo Quindi Non so come passare dalla riva dell'oggi Alla riva del domani Abbiamo detto che c'è una sorta di perdita della speranza forse Per ciò che si intraprende E quindi la difficoltà a superare gli ostacoli del giorno Fa sì che nasca un'incertezza Nel trovare una soluzione Per passare da uno stato d'animo Un modo di vivere odierno A un obiettivo Un modo di vivere diverso Che è quello futuro E positivo Quello del domani E intanto il fiume si porta alla realtà di questa sera A mari senza speranza Il fiume si porta alla realtà di questa sera A mari senza speranza Che cosa ho pensato? Che il fiume è un insieme di pensieri Insieme di pensieri Un insieme di emozioni Di stati d'animo Sentimenti Giornalieri Ma anche e specialmente Che emergono durante la sera Perché dice Intanto il fiume si porta alla realtà di questa sera Però perché C'è sempre il riferimento giornalieri Perché come ho detto prima Inizia dicendo Non so come passare Dall'arriva dell'oggi All'arriva del domani Quindi dell'oggi La realtà di questa sera In genere Quindi Il tumulto di pensieri Di sentimenti Giornalieri Dovuti a un'incertezza per il futuro Un'incertezza magari sulla propria identità A un'incapacità di trovare una soluzione All'agire pratico Dall'oggi al domani Emergono principalmente la sera E quindi come un fiume lo travolgono Ebbene Quindi intanto il fiume si porta alla realtà di questa sera A mari senza speranza Quindi il fiume poi sbocca Verso mari senza speranza Quindi In un certo senso Sta trascorrendo le giornate Avvertendo una certa insoddisfazione Questo l'abbiamo capito tutti Però smarrisce completamente la speranza La speranza È persa del tutto In che cosa? In un mare In qualcosa di vastissimo In un mare Di pensieri Di sentimenti La verità chiara Come un cielo disteso Diversa e lontana Si spegne Quindi la verità Chiara in che senso? Che è pervaso da dubbi A cui non sa rispondere Quello che un tempo Reputava Riteneva Vero Perché dice la verità chiara Adesso gli pare mutato Infatti Come un cielo disteso Diversa e lontana Si spegne Diversa Mutato La verità adesso Gli pare mutata Diventa quindi incapace Di distinguere Dagli inganni Delle falsità Le inconvenze Della vita Sì qua Sono appunti Che ho preso Un po' Velocemente In poche parole La sua Non riesce più a distinguere Che cosa è vero Che cosa è falso Non riesce più a distinguere Gli eventi Della vita La stessa vita Di pare Possa non essere Esclusivamente come Era abituato a vederla Quindi vera ed effettiva Secondo me È molto significativa Questa poesia Mi ha colpito molto Quindi Non ve le leggerò tutte Così Ovviamente Se volete approfondire O comunque Se alcune delle poesie Che ho scelto Che sono quelle Che sono piaciute di più a me Magari a voi Non dicono nulla In particolare Potete sempre Acquistare il libro Ovviamente Non è una marchetta O cose È semplicemente Che Dal mio punto di vista Questi poeti Scrittori Artisti Insomma Queste persone Che dedicano la propria vita Con sforzo e fatica Per realizzare Comunque Delle opere Ammirevoli Si meriterebbero Anche un minimo Di riconoscimento E riconoscenza Da parte altrui E quindi Appunto Io vi leggo Quelle che Interessano di più Però capite Non posso Quaranta pagine Poi dopo Un'altra Che mi è piaciuta molto Si intitola Ali della vita E questa è sì Invece Di Anna Giulia Angelone Quindi proprio Della poetessa Non è Tratta da un altro libro Ali della vita Sentite bene Corro sulle ali Del vento Nella tempesta Tra le nuvole opache Dei miei desideri Corro sull'impetuoso Fiume del dovere Che mi spasima Avvolta nella pena Che lacera Corro così Sulle ali Folli della vita In una fuga Assurda Soave Che mi dà Cieli Abissi Schianto Allora Corro sulle ali Del vento Nella tempesta Tra le nuvole opache Dei miei desideri Che cosa Ho avvertito Che cosa Secondo me Voleva trasmettere La poetessa Con queste parole Voleva trasmettere Che agisce Frettolosamente Occupandosi Di qualcosa Che le permette Di ottenere Risultati Ammirevoli E immediati Da che cosa L'ho capito Ali del vento Il vento È qualcosa Di veloce È qualcosa Di immediato Corro Quindi vuol dire Che si sta occupando Si sta occupando Di qualcosa Che non ci ha detto Esattamente Che cos'è Però sappiamo Su che cosa Corre Corre Sulle ali E le ali Secondo me Sono i risultati Ammirevoli Perché Perché ci permettono Di spiccare Il volo Quindi Si sta facendo Un mazzo Tanto In parole povere Per Spiccare il volo Ali del vento Di che cosa Quindi È per questi risultati Che sono Sia ammirevoli Che immediate Io l'ho interpretata così È un'interpretazione Nella tempesta Quindi Ma lo fa In una situazione Totalmente inadeguata Nella tempesta Tra le nuvole opache Dei miei desideri Quindi Tra le incertezze Del futuro Perché sono opache Le nuvole Pretendendo Troppo da sé Perché poi dice Corro sull'impetuoso Fiume Del dovere Che mi spasima Avvolta Nella pena Che mi lacera Quindi Vuol dire che Ha un senso Del dovere Molto forte Che non le lascia Tregua La tormenta Avvolta Nella pena Che mi lacera Sull'impetuoso Fiume del dovere È chiaramente Un'allusione A quello Poi Corro così Sulle ali Folli Della vita In una Fuga Assurda Soave Che mi dà Cieli Abissi Schianto Allora Ali Folli Della vita Mi ha fatto pensare Che la vita È breve Poi le ali Ci permettono Di volare Sì Però Cosa devono fare Per volare Devono muoversi Quindi Vuol dire Che la vita È sempre In movimento E lei Si muove In questa vita Breve Sempre in movimento Sulle ali Folli Quindi In una Quasi Agendo Con follia Con fuga Senza Neanche Quasi più Riflettere Per quale Fine Sta agendo In modo In modo Da non Sprofondare Nell'abisso E questa vita Infatti dice Mi dà Cieli Abissi Quindi È un chiaro Riferimento Al fatto che Sta cercando Di non cadere In questo abisso Che non è meglio Specificato Però In una Fuga Assurda Soave Quindi la vita Viene vista Come Una Una Continua fuga Dagli impulsi Dai sentimenti Che prova Una parte Di sé E quindi Alterna Momenti Di Assurdità E momenti Di Piacere Di relax Soave E poi Schianto Schianto Io l'ho Interpretato come Mi schianto Sull'imprevisto Perché L'imprevisto C'è Prima o poi Non puoi Sempre Non puoi Progettare Programmare La tua vita Con un sistema D'azione Che rimane Sempre Il medesimo Per sempre Sempre Scusate il gioco Di parole Prima o poi Si cambia Volontariamente O involontariamente Cambiamento Arriva L'imprevisto Arriva L'imprevisto Che può essere O il fatto Di agire Appunto Reprimendo Una parte Di sé Oppure La possibilità Che questo imprevisto Potrebbe anche essere Una reazione Imprevista Al tormento Del senso Del dovere Insomma Non c'è definito Schianto E' stato lasciato Appositamente Vago Per un motivo Già stiamo andando Proprio a forzare La logica A sfrugugnare Per così dire Poi Ve ne leggo Ancora una Dolce delirio Questa mi è piaciuta Molto Allora Nel vago sole Un alito di vento Un fremito di foglie Si desta Nella fantasia Un tenero bisbiglio Dolce delirio Di vagabonda felicità Fuggevole Immersione Nella primavera Della vita Poi Grave A sera Mi penetra Una pioggia lacrimosa Di gialle foglie Smarrite Allora Nel vago sole 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 Che cosa può rappresentare Il sole In genere Rappresenta la felicità La forza La vita La speranza Un qualcosa che abbaglia Comunque No Di incredibile Che stupisce Sole La vita Si Però nel vago sole Dice Quindi E' vago Non è ben distinguibile Questo sole E' vago Non è ben distinguibile Un alito divento Alito Quindi il vento Viene personificato Da questa parola Alito Quando uno Emette un alito Che cosa fa? Sta ispirando Sta ispirando Sta ispirando Quindi vuol dire Che sta Rilasciando qualcosa Uno scarto In questo caso Indride carbonica Ma non è in senso Scientifico Ma Nel senso più Specifico Della poesia Potrebbe essere Che Questo vento Quindi questa Velocità Il vento Anche prima Era stato utilizzato Per indicare Qualcosa di veloce Può essere considerata L'imminenza Del superfluo Perché del superfluo? Perché l'alito Che cos'è? E' superfluo Ok? Per il ragionamento Di prima Quindi In questo In questo sole In questa luce In questa speranza Vita Insomma Vedetela come volete Non meglio Distinguibile Non ben distinguibile L'imminenza Del superfluo E poi dopo Un fremito Di foglia Afferma Quindi Turba Gli aspetti Fragili Della personalità Che si rivolgono Al sole Ossia Alle foglie Perché? Più fragili Della personalità Perché le foglie Sono fragili Quindi io l'ho interpretato In questo modo Le foglie Sono fragili Quindi gli aspetti Fragili Della personalità Che si rivolgono Al sole Ok? Vengono turbati Dall'imminenza Del superfluo E quindi Che cos'è però Questo sole? Può essere O un obiettivo Un obiettivo vago Oppure Un punto di riferimento Ancora una volta Vago Non ben distinguibile Reso opaco Adesso sì Il motivo Per cui è stato Reso opaco Il tumulto Enigmatico Del superfluo Andiamo avanti Si desta Nella fantasia Un tenero bisbiglio Dolce delirio Delirio Di vagabonda felicità Come l'ho interpretato? Che Nella fantasia Ok? Nell'immaginario Vi è un delirio dolce Una sorta di Perversione Una sorta di Vagabonda felicità Di un godere precario Di un piacere Che Potrebbe essere dovuto A un sistema Di difesa Dell'io Parlando in termini Freudiani Quindi Ha una Un bisogno Di Dover In un certo senso Vivere Una forma di piacere Terreno Che non è stato Vissuto in precedenza Infatti si desta nella fantasia Tenero bisbiglio Quindi nella fantasia Sente una voce Una voce tenera Una dolce Una voce tenera Però nello stesso tempo Oltre ad essere dolce Anche un delirio Di una felicità Una felicità vagabonda Perduta Perduta Una felicità perduta Quindi Di un godere perduto Precario Io l'ho interpretato così Poi Fuggevole Immersione Nella primavera Della vita Fuggevole Il riposo Che è un riposo Che corrisponde Al godere Precario Di un Piacere vagabondo Prima di intraprendere Nuove scelte Poi Grave A sera Mi penetra Una pioggia Lacrimosa Di gialle foglie Smarrite Quindi poi Pesante Pesantemente A sera Mi penetra Questo lasciamo così Una pioggia Lacrimosa Quindi una molteplicità Dolorata Una molteplicità Triste Di gialle foglie Smarrite Le foglie Abbiamo detto prima Sono gli aspetti Fragili Della personalità Fragili Non fragili Insomma Quella è una caratteristica È la foglia Però sono gli aspetti Più belli Anche perché Le foglie sono più belle Di norma Della quercia Cioè proprio Della corteccia Dell'albero Poi ognuno Ha i suoi gusti Però Che si rivolgono Verso il sole Però queste foglie Cadono Come una pioggia Di lacrime Perché sono tristi Quindi lasciano Con sé Un senso Di tristezza Sono gialle Sono smarrite Quindi sono Un insieme Interpretato Come un insieme Di pensieri Di emozioni Che se venivano Colti Quando vi era L'opportunità Quando c'era Il sole Avrebbero dato vita Buoni propositi Però L'incombenza Dell'alito Del vento Quindi L'imminenza Delle pulsioni Delle pulsioni Superflue Che però Prima o poi Dovevano emergere Che il sole Il sole All'inizio Era vago Quindi era opaco Non era ben distinguibile È possibile Cosa ne deduciamo Che è possibile Che la poetessa In futuro Continui Ad agire Nello stesso modo Quindi approvare In sequenza Gli stessi sentimenti Perché le permetterebbero Di scrivere poesie Ed altronde È lei stessa Che ci invita Quando afferma Che è fuggevo L'immersione Nella primavera Della vita È lei stessa Che ci invita A questa primavera A questa rinascita A questa sorta Di riposo Prima di intraprendere Nuove scelte Bene Spero di Non essermi fatto Troppe seghe mentali Nel senso che Io ovviamente Sto cercando Di Di interpretare Il significato profondo Delle poesie Poi Non vorrei stravolgere L'effettivo significato Che viene trasmesso Però Dal mio punto di vista Ci sono più modi Per interpretare Una poesia Proprio perché I termini utilizzati Spesso sono vachi Possono alludere Più fattori Più cose E quindi Io ho cercato Di dare Un'interpretazione mia Ma nello stesso tempo Anche di capire Quello che Ha provato Le emozioni I sentimenti Quello che sta dietro La scrittura Della poesia E niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Usciranno comunque Altri video Di questo tipo Ho proprio intenzione Di creare una rubrica Bene Statemi bene Spaccate tutto E noi ci ribecchiamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.